Consigliere Mongello adesso vuole intervenire? Sì, Mongello, Dario sempre. Consigliere Dario Mongello. Grazie. Grazie. Un paio di comunicazioni. La prima la rivolgo direttamente a lei, Presidente del Consiglio. Come noto, ieri è deceduto il senatore Silvio Berlusconi, quattro volte Premier, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex Presidente del Milan e ideatore di Forza Italia. Politicamente parlando, Berlusconi può piacere o meno, ma questo non toglie il fatto che per ben quattro volte ha ricoperto la carica di Premier nel nostro Paese, anzi, della nostra patria. Non la faccio lunga per non cadere nella retorica, ma arrivo direttamente al punto. Ognuno può avere le proprie opinioni, politiche o no, ma questa sera, anche in virtù del proclamato lutto nazionale con i relativi funerali di Stato, dimostriamo che anche la città di Pinerolo è vicina ai servitori dello Stato. Silvio Berlusconi ha dimostrato di esserlo, cominciando dal fatto che, e lo ripeto ancora, è stato per ben quattro volte Premier. Anche per queste ragioni, chiedo a lei, Presidente del Consiglio, a tutto il Consiglio Comunale, di concedere un minuto di silenzio per la morte di Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Grazie, non si potrebbe intervenire sulle comunicazioni, in ogni caso io le rispondo che con il Sindaco e con la Giunta ci siamo accordati, visti le modalità di organizzazione del Consiglio che prevede in prima serata le comunicazioni, quindi una situazione un po' più movimentata, visto il fatto che i funerali ci tornano domani, di fare domani sera in apertura del Consiglio il minuto di silenzio. Benissimo, grazie. Alla ringrazio di questo, ho deciso di chiederlo stasera, soltanto perché ricordo che nel regolamento si dice appunto che soltanto nella prima seduta è possibile fare questo tipo di intervento, quindi attenendomi al regolamento ho pensato di dire quanto detto. sono lieto.